Ancora presto, abbiamo altre partite in campionato che sono fondamentali per noi, perché se vuoi rifare la Champions League devi fare bene anche la Serie A, non pensare alla Champions. Quando arriva la Valencia pensiamo a quella partita che sarà qualcosa di speciale per noi, per tutta la città, per tutti quanti che tifano l'Atalanta e noi ci pensiamo quella volta. Ma sinceramente non ci penso neanche, però sappiamo bene chi è Messi e cosa ha fatto nel calcio, ovviamente mi fa piacere stare già a paragonare con lui, parlare di me e di lui, che abbiamo fatto così tante triplette, è ovviamente un piacere.